L'ha deciso, lei che la cammina debba essere io. Monarchico. E' pubblicato, allora noi potevamo maritare. Non ho più pace. Beppino Torremolo. Complimenti. Buongiorno, c'è per bottone relutto? Sì. Quanti? Tutti. Non so che ho salito c'è. C'è 9 avorsi? No. Quanto è? 60 lire. 55 lire, vai. Bu stesso. Non do gli ansia. Grazie. Ha ragione lei. Fui di, come fanno tutti. E' un sennepadrecchio. E' una porta, villeggea. Ma io manco una lira. che adesso è difficile capire con tutte queste imbastitudine. Il pantalone, come se lo sente? Giacca va bene, io accorcerei semplicemente un centino. trovo la manica. No, guardi, sento l'anca, sento proprio che stai in alto. Allora, le faccio provare un'altra giacca. Io... capisciò non aveva salutare. Io sogno peccatore. A te la toccano la mamma di... Ma cos'è no? Cos'è che avrei messo come un frate? È proprio mio. Però non ti scuidare, Peppi. Io sono un traditore. Ma tu restarai sempre un troppo assenista per chi deve fuori è troppo addirittura per chi deve l'interno. Ma sono chi si amata. Sì, sì, sì. Siete tranquilli. Già ricomincio a lavorare. Però sei una ragazza forte. Ma sapete come è fatta? E dopo i nostri miei? Ancora niente. Ma è questione di ore. Alla che stanno tutti capimandamenti. Nino, quello dello sbirro la sai? C'era un piccirino che c'ha fuori. Ma avvicino a lui gli faccio... Ma che i senpai sanno? Terra e merda mi fa quello. E che minchia fai? Un pupazzo. Un pupazzo che fa il polsino. Il polsino. Ma perché non un poliziotto? Perché per fare il poliziotto ci vuole più merda. Chiede, tu non ridi. Vedi che qua quelli che non ridono alle mie battute le licenze. Ci fate ridere anche a noi? Stiamo cercando il signor Iacuzzi. Qualcuno lo conosce. Chi lo vuole sapere? Io conosco Maria Iacuzzi. Cazzo! Cazzo! No, 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 no. No, 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 no. Ci devi raccontare un sacco di cose, jacuzzi. Che ti devo raccontare? Una barzella, eh? Eh, raccontami quella conardappare. Ma sai? Non lo conosco. La partita è finita. Che è successo? E' un'altra parte. E' un'altra parte. Ci rivediamo, sbirro. Come vai, jacuzzi? Allora ci ho visto giusto su di te a quanto sento. Perché che senti? Voci che girano, tu non le senti? Allora a Pizzaricchi. Dicono che sei un cia di tole, figlio di buttana. Resta in cortile. Intervenite. Pizzaricchi pure tu. Perché come vedi sono carcerato pure io. Non è, tira sta palla, io cavo. Non vogliamo giocare. Non vogliamo giocare. Ci regaliamo, sbirro. Allora. Allora a Pizzaricchi. 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 Grazie a tutti.